A Rezzo come all'ultimo paese della provincia d'Arezzo, siamo pronti senza A e senza MA, con concetto di tolleranza zero, di intervenire di fronte a segnalazioni da qualunque parte di violenza di genere, di violenza domestica, di violenza familiare. Se danneggia le tue cose, se ti ricatta, se ti segue, se ti spinge e ti schiaffeggia, se ti umilia, se ti isola, se pretende amore o sesso quando tu non vuoi, questo non è amore. Si intitola così il progetto portato avanti dalla Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. Il camper della Polizia di Stato che porta nella sua fiancata proprio questo slogan è approdato in provincia di Arezzo dal luglio scorso ben sei volte. In tutto 600 le donne che si sono avvicinate e che hanno avuto il coraggio di fare un primo passo. Adesso il progetto vive un'importante seconda fase. Il team che gestirà il progetto è composto da funzionari con professionali differenti e quindi proprio perché stiamo pronti a gestire il problema sotto tutte le varie sfaccettature, penale, sociale, assistenziale. Quindi nel nostro team c'è il medico, un medico della Polizia di Stato, ma ci sarà uno psicologo, ci sono i funzionari che hanno un'espressione professionale differente, il dirigente della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, c'è l'investigatore. Cioè noi nel team abbiamo inserito tutte le professionalità che ci permettono di affrontare e di approcciarsi al problema sotto tutte le forme. Per la lingua interverranno degli interpreti che ci daranno un ausilio laddove questo risultasse necessario.